Buongiorno a tutti, sono Maria Rosa Zolina, direttrice dell'Istituto Italo-Cinese di Torino-Colombo. Faccio un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti di questa prima edizione del concorso Europa-Cina Crescendo. Buongiorno, mi chiamo Igor Pugnolato. Sono professore di pianoforte al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Desidero augurare in bocca al lupo a tutti i partecipanti al concorso musicale Europa-Cina. Viva la musica! Buongiorno, sono Roberto Fava, direttore della Civica Scuola di Musica Claudio Abado di Milano. Volevo augurare a tutti i partecipanti al concorso Europa-Cina un grande, grande in bocca al lupo. Volevo augurare a tutti i partecipanti al concorso musicale Europa-Cina un grande, grande in bocca al lupo.